Scusami, il messaggio era per un'altra persona. Per la tua vicina con cui hai identificato? Lei non esiste più per me. E allora per chi era? Per una persona che mi ha aiutato ad aumentare i follow per il mio gruppo. In realtà non so chi sia. L'ho fatto per attirare la sua attenzione. Tu? Cosa fai? Stavo tentando di comporre, però non mi viene niente. Può capitare. Non ti abbattere. Sei un genio. Grazie. Quando avrai un nuovo pezzo, voglio essere il primo ad ascoltarlo. Non dimenticare che sono il tuo fan numero uno. Ciao. Ciao.